Allora, a proposito di donne che muoiono perché donne e per mano di un uomo, i casi sono tantissimi nel nostro paese, abbiamo numeri troppo alti. La nostra Roberta Giuli parte proprio dai numeri. Roberta, ciao intanto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E visto che dietro i numeri ci sono le persone, le storie di queste donne. Esatto. Noi in realtà partiamo proprio dal fare una precisazione, perché giustamente hai parlato di numeri molto alti. Il report del Viminale, l'ultimo sulla violenza di genere, ci dice che nel 2023, quindi dall'inizio dell'anno, sono state uccise 77 donne nel nostro paese. 61 di questi omicidi sono stati commessi in ambito familiare e affettivo. Però noi di Scatigi24 applichiamo un filtro ulteriore, quindi parliamo appunto, come dicevi, di quelle donne che sono uccise in quanto donne, quindi proprio di femminicidi. Tra queste donne, oltretutto in questo numero 29... Questo lo dice tra l'altro, Roberta, solo un'unica appendice, la convenzione di Istanbul, cioè il reato non è perché... E noi abbiamo recepito, come tanti altri paesi, non in tutto, però possiamo dirlo. Comunque, in queste 29 donne, noi abbiamo contato anche l'ultimo caso, quello di Rostella Nappini, nonostante, come dicesse Laura Ceccherini, ecco, la dinamica non è del tutto chiara, quindi poi dovremo aspettare effettivamente il momento, però queste sono donne che poi, nella maggior parte dei casi, lo sappiamo purtroppo ancora, quasi 9 casi su 10, sono state uccise da partner o ex, quindi da persone che appunto erano legate a loro o lo erano state in passato e questo anche è un dato importante. Cosa è successo in Italia? Nel 2019 si è cercato di fare qualcosa contro la violenza di genere, il governo tra l'altro sta pensando a un ulteriore stretto e quindi nel 2019 è stato varato il codice rosso, sono state introdotte 9 fatti specie di reato che sono quei reati che vengono definiti reati spia, quindi tutto il sistema si dovrebbe allertare nel momento in cui questi reati accadono, come la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti che vediamo in calo nel 2022, però vediamo in aumento per esempio la deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Cosa è importante però? Questo dato qui che ci dice che le donne comunque stanno iniziando a denunciare di più, quindi non vuol dire solo che ci sono più violenze sessuali, ma anche che le donne riescono a superare quella paura e poi andare a denunciare. L'ultimo dato che ti faccio vedere, resta sempre il più importante, è questo. La maggior parte delle donne sono il 63% di loro, di quelle donne che sono state uccise non avevano denunciato prima le violenze a cui erano sottoposte, le violenze che stavano subendo e quindi per questo poi il dato precedente diventa più importante.